Ciao a tutti, ben ritornati su questo canale. Finalmente siamo ritornati nella nostra consueta posizione che non è quindi in giro per l'Italia o per il mondo. Allora, è successa una cosa molto interessante. In realtà, adesso siamo il 30 aprile, questa cosa è successa il mese scorso, il 30 marzo se non erro. Ed è successo un discorso a livello europeo che, a mio avviso, migliora tantissimo. La situazione lavorativa migliorerà, perché ancora non è attuata, la situazione lavorativa dei dipendenti. Dipendenti nel contesto privato, perlomeno. Quindi chi lavora per un'azienda privata fa il dipendente e troverà sicuramente delle condizioni diverse, perlomeno, rispetto a quello che c'è ora. Ovvero, cosa è successo? Il Parlamento europeo ha dichiarato che vuole ridurre sensibilmente il gap che c'è, quindi la differenza che c'è fra gli stipendi. Soprattutto, questa cosa è nota, insomma, da sempre, che c'è una discreta disparità tra uomini e donne come retribuzione a parità di mansione. Quindi, se, insomma, banalmente, se un uomo e una donna vengono assunti nello stesso momento presso la stessa azienda con la medesima mansione, è molto probabile che non ricevano lo stesso stipendio. E questo, sicuramente, va a influire negativamente su molti aspetti. Il primo, che creare una disparità di genere è sicuramente insensato, illogico e molto discriminatorio. In più, c'è certo che se ci sono delle situazioni in cui, faccio per dire, un lavoro di fatica e la stessa mansione viene fatta da uomini e donne che, per legge, possono sollevare pesi diversi, quindi c'è proprio una differenza fisica, a quel punto ci potrebbe anche essere una differenza di stipendio, sto estremizzando, però diciamo una differenza di stipendio, ma è data dalla questione prettamente fisica di sollevamento, o anche da un discorso, magari, che potrebbe essere quello della bravura in un determinato settore, anche se è difficile valutare la bravura di una persona se non è un dato oggettivo. Io parlavo del peso, perché il peso è oggettivo, non è che uno può dire, secondo me, quello è un chilo, un chilo e due, lo metti su una bilanza e quello è. Però vabbè, sto divagando e non è quello lo scopo. Allora, diciamo che la cosa interessante è che si punterà a ridurre il minimo possibile questa cosa qui. Diciamo che è stato stabilito, cioè è stato stabilito, hanno visto, tramite statistiche europee, che le donne mediamente prendono almeno il 13% rispetto agli uomini, in media. E questo già è una differenza abbastanza importante, perché anche se si può, come dire, trovare difficoltà nel trovare esattamente questa disparità, però insomma, il 13% se uno deve prendere 1000 euro e l'altra persona ne prende 870, chiaramente la differenza può essere anche molto pesante. Cioè, ci sono dei limiti minimi in cui questa differenza ti dà la possibilità di essere autonomo oppure no. Mentre invece, se mi dici, uno prende 10.000 euro e uno 8.700, è vero che c'è la differenza, perché comunque è pesante avere 1300 euro in meno a parità di mansione. Però lì si va sul, io mi incazzo perché tu non mi stai dando gli stessi soldi di quell'altro, nonostante che facciano le stesse cose, al non riesco a campare da solo perché ho questa differenza qui. Oppure se ricevo una multa un mese per andare a lavoro, faccio per dire che prendo un limite di velocità, che comunque è colpa mia, per carità, però non riesco ad arrivare a fine mese, perché mi ritrovo magari con 70-80, da me possono essere anche 200 euro di multa. Quindi c'è quella lì la differenza che mi limita fortemente nella mia vita quotidiana. Quindi lo scopo è quello di limitare questa disparità qui. Allora, quali sono alcuni delle strumenti che si metteranno a disposizione? Intanto ci sarà la fine del segreto salariale, quindi quello che prende una persona potrà essere dichiarato. Nel senso che se tu ti ritrovi in un contesto aziendale in cui sai che, oppure presumi che un tuo collega a parità di mansione ha uno stipendio maggiore, tu puoi tramite il tribunale, quindi insomma tramite i diritti che hanno i lavoratori, vuol dire, c'è il mio collega che prende più di me, ma non sei tu che lo devi dimostrare, ma è il tuo datore di lavoro che deve far vedere quanto prende, al tribunale insomma, o insomma chi gestirà questa cosa qui, nel senso quanto prende quel dipendente. Se poi il dipendente ha la stessa mansione e effettivamente tu hai questo maltrattamento, diciamo, effettivamente potrà essere compensato. Diciamo che questa cosa però non è che devi avere tutto esattamente la stessa cifra, perché dopo anche lì possono dipendere da tanti fattori, però diciamo che si vuole passare ad avere un 13% medio di dislivello, quindi vuol dire che ci sono anche situazioni in cui è più alto, altre in cui è più basso, comunque si vuole arrivare sotto al 5% di disparità di stipendio. Questo secondo me il 5% è stato valutato non perché ci deve essere una disparità tra uomini e donne, oppure anche per razza, perché tanto comunque siamo in un contesto europeo, dove tra il Nord Africa e l'Islanda, voglio dire, abbiamo un contesto anche razziale che sicuramente è presente, e quindi anche lì sicuramente ci sarà qualche problema da questo punto di vista. Però diciamo che il contesto è che si deve avere un'uniformità il più possibile per quanto riguarda i dipendenti, e quindi il 5% è quello che si è stabilito. Chi non rispetta sta cosa riceverà delle sanzioni, quindi i titolari d'azienda riceveranno delle sanzioni che serviranno non per punire il discorso aziendale, quindi che in massa si andrà a fare queste denunce, anche se secondo me potrebbe capitare, ma serve per disincentivare questa cosa, soprattutto perché, adesso io non so nelle altre nazioni europee, però sappiamo che in Italia se tu vuoi fare un colloquio, ti propongono magari una cifra, intanto vogliono sapere quanto prendi, questa cosa chiaramente la vogliono fare per dire io non ti voglio dare esattamente quanto ti posso dare, ma ti voglio dare il minimo possibile, quindi devo vedere quanto prendi per poi tagliare fino ad arrivare a quel punto, e quindi sta cosa qui è molto disonesta perché tende a tenere sempre più basso possibile lo stipendio medio delle persone. Questo anche perché se per qualunque motivo, per un'agevolazione, o prima lavoravo con lo zio e queste cose così, che magari mi dava qualcosa in più, se cambio lavoro e devo andare in un'azienda, per prendermi non è che mi darà di meno, almeno la cifra che prendevo prima la dovrà tirar fuori, se poi mi dà 50 euro, 100 euro in più, è quell'incentivo che si mette per iniziare a lavorare per la sua nuova azienda. Se a parità di età, di esperienza, sempre da mio zio, se era l'altro dipendente, che magari a mio zio gli stava anche un po' sui coglioni, non gli dava lo stesso stipendio che mi dava a me, perché chiaramente c'era del nipotismo, eccetera, e quindi lui prendevo qualcosa in meno. A parità, se viene a cambiare l'azienda e vedono la sua busta paga, gli daranno sempre di meno che a me, quindi avrà sempre questo deficit, è un esempio, però lui sarà sempre penalizzato, salvo che non ci siano delle situazioni che lo aiutano a migliorare la sua condizione lavorativa. Però insomma, quindi per limitare questo aspetto, ci sono uno, quello che dicevo prima, intanto il segreto salariale non esisterà più, quindi se un dipendente si trova in difficoltà, eccetera, pensa di essere sottopagato, può fare richiesta e verrà evidenziato il fatto che un suo collega a parità di livello, eccetera, prende di più e quindi dopo dovrà avere un compenso dello stipendio. Seconda cosa, invece, verrà esposto, cioè sarà obbligatorio esporre il RAL negli annunci di lavoro, perlomeno un RAL minimo, un RAL massimo. Poi anche lì adesso ancora non è stato ben stabilito quali sono la regolamentazione per questa cosa, quindi però diciamo che da noi, soprattutto in Italia, è quasi impossibile trovare lo stipendio che verrà proposto per un nuovo lavoro e quindi il fatto che deve essere aggiunto forzatamente è un'ottima cosa, perché perlomeno tu puoi vedere il minimo da cui puoi partire fino eventualmente a un massimo, che ovviamente non si raggiungerà mai, però potenzialmente è un massimo che puoi raggiungere. Che poi non si raggiungerà mai è vero in parte, perché probabilmente nelle grosse aziende, quando si inizia a creare il distacco un po' tra i reparti e le situazioni, forse si riesce anche a raggiungere, ma diciamo che l'Italia è fatta più o meno da piccole e medie imprese, quindi questa cosa non lo so, io non ci credo tantissimo. Però comunque intanto l'obiettivo perlomeno viene posto e questo sicuramente potrà dare un valore aggiunto al potere diciamo che ha il dipendente nei confronti di, non dico proprio il dottorio di lavoro, perché magari in un'azienda di tre, quattro, cinquecento, mille, duemila persone, ovviamente il proprietario non ti conosce, non lo sa chi sei, qual è la tua situazione, magari c'è un dirigente, un'altra cosa che ti sta trattando male e quindi diventerà una roba di questo tipo. Quindi per quanto sia, insomma, perlomeno qualcosa si muove. Il fatto del RAL poi ancora non è stato stabilito, ma secondo me verranno messi dei limiti, perché ovviamente uno potrebbe anche dire, vabbè metto il RAL, allora parto con, non lo so, otto mila fino a cinquecentomila è facile, cioè ho preso una gamma che tanto meno di otto mila come faccia darti è impossibile, quindi è proprio una presa in giro e cinquecentomila non li prende neanche il proprietario dell'azienda, quindi c'è un'altra cifra che non ha senso. E anche lì quindi io presumo ci saranno, insomma, delle, come dire, delle regolamentazioni che metteranno dei limiti che abbiano un senso, quindi soprattutto il RAL minimo, non può essere minimo nel senso zero, perché uno magari va a fare il tirocinio gratuito e più magari che devi pagare a te qualcosa perché altrimenti non ti prenderanno neanche per quello. Quindi cioè diventerà una cosa dove tu sai che quando cerchi una mansione nella tua zona o anche fuori puoi cercare, fare delle ricerche su tipologie di azienda o tipologie di lavoro e vedi quanto potresti prendere minimo nei vari annunci di lavoro e di conseguenza se ci sono degli annunci che sono completamente sballati come RAL puoi anche dire questi o hanno sbagliato, quindi magari puoi perdere tempo per chiedere se c'è un errore nella descrizione del RAL oppure semplicemente eviti anche di perdere tempo, eviti anche di far perdere tempo all'azienda andandoli a chiedere, insomma, di fare un colloquio che poi non accetterai mai. Quindi queste sono, diciamo, le cose che verranno introdotte anche in Italia, insomma, che sono state dichiarate dal Parlamento Europeo. La cosa che è da prendere in considerazione è che ci vogliono tre anni o meglio diciamo gli stati avranno tre anni di tempo per adeguarsi a questo cambio. Probabilmente perché siamo una valanga di stati che hanno storie diverse, contesti diversi e tutta una serie di problematiche, non problematiche, però situazioni diverse. Comunque dobbiamo metterci in atto che noi siamo diversi tra stati, abbiamo stati più ricchi e stati più poveri e a volte questi gap sono veramente importanti e situazioni economiche molto diverse. Quindi hanno avranno considerato tre anni perché in tre anni adesso le cose cambieranno molto, c'è stata la crisi e tutto quanto, quindi dare il tempo alle aziende anche di ritrovare magari un po' di serenità da un punto di vista di situazioni economiche che adesso sono molto difficili e poi anche per adattarsi a questo nuovo stile di annunci che probabilmente come in Italia molti non sono abituati a utilizzare. Certo che se vai tipo in Germania o penso anche in Francia sta cosa già si utilizzava tantissimo quindi per loro la differenza più di tanto non si trova ma da noi sicuramente si troverà. Questa cosa io mi aspetto, anzi mi auguro, che farà cadere le braccia a tutti quegli animali che danno da lavorare facendo fare dei lavori sottopagati in maniera estrema. Perché se tu fai un annuncio dove tu mi metti un certo ral, no? Perché per leggere lo devi mettere quel minimo altrimenti vuol dire che stai sottopagando il dipendente. Vengo a lavorare e mi dai la cosa dei 500 euro al mese, no? Che non è descritta nel ral, a quel punto il dipendente dal momento che ha l'annuncio e ha la busta paga potrà fare richiesta di integrazione dello stipendio. Quindi non puoi più fare il furbo, mi auguro che sarà così, non puoi più fare il furbo nel senso che fai degli annunzi dove non metti niente, fai a parole così, ma sì dai vedremo faremo e ti ritrovi ad avere un dipendente che viene sottopagato perché tu hai un'attività che non si può permettere un dipendente. Oppure, peggio ancora, sei proprio crudele a sto punto da un punto di vista economico e non vuoi pagare una persona tanto quanto si meriterebbe e quindi che gli impedisci di poi di avere una vita serena e tutto quanto quello che ne consegue. Di conseguenza io mi aspetto che questo questo cambio di paradigma insomma per quanto riguarda la ricerca di lavoro possa creare delle situazioni in cui le aziende meritevoli avranno più persone che cercheranno di essere coinvolte nella nella selezione del personale in modo che possano prendere anche siccome possono pagare di più anche persone di qualità più alta le aziende più piccole dovranno fare i conti anche con questo aspetto come già fanno tantissime altre in tantissime altre nazioni e quindi dovranno strutturare il loro lavoro per quello che è. Oppure dovranno mettersi in moto per riuscire a gestire il meglio possibile le persone che hanno quindi le risorse umane dovranno fare dei lavori migliori rispetto a quello che stanno facendo adesso perché io per tutte le esperienze che ho avuto in azienda e anche su LinkedIn per dire che mi contattano ogni tanto per fare dei colloqui perché facendo il tecnico trasfertista è una figura che per fortuna è un po' ricercata e quindi ogni tanto ci sono dei delle aziende che ricercano personale che mi contattano per fare dei colloqui e ogni tanto li faccio per vedere anche che cosa cercano cosa fanno però è gente cioè questo chi sta lì alle risorse umane probabilmente non lo sanno anche che gli sta sopra ma fan dei colloqui cioè che sarebbe da chiudere il telefono alla pari di quando ti chiama il call center della della compagnia telefonica di turno che però la voce registrata cioè non serve assolutamente niente a fare quei colloqui per loro passano il tempo chiedendoti di parlami della tua vita no quindi anche con le videocall perché tanto si fanno anche quelle stai lì no queste persone stanno sedute si prendono gli appunti nel loro taccuino invisibile o nel taccuino vero però insomma ti fanno le domande che ci sono scritte sul curriculum come se visto che quello l'hai visto ma mi già un po' più nello specifico cioè se sono un cialtrone che ti ho scritto delle cose che non hanno senso mi inforchi subito altrimenti inutile che ti sto a ripetere sempre la stessa cosa poi facciamo un'altra call facciamo un'altra chiamata facciamo un'altra roba per poi arrivare a 27 colloqui prima di dire se adesso ci risentiamo e poi non ti chiamano più quindi probabilmente anche questo aspetto qui farà prendere delle belle bastonate agli incapaci che si ritrovano nelle risorse umane e io vi posso garantire che non sono per niente per niente sensibile con le persone delle risorse umane ma non perché il lavoro che fanno all'interno dell'azienda per me non è o qualcosa contro quella tipologia di lavoro io ho proprio avuto solo esperienze estremamente negative con chi tratta le risorse umane e quindi mi viene da pensare che sia proprio la tipologia di lavoro e la tipologia di persone che ricade in quel lavoro che secondo me non non fa nessuno fa del bene alle aziende questo purtroppo è un mio è una mia esperienza che mi porto dentro e che comunque dico e la dico perché purtroppo è così quindi non faccio nome per carità però il discorso delle risorse umane mi ha sempre lasciato molto molto basito su quale sia il loro scopo ecco comunque a parte questo diciamo che ci sarà questo cambiamento da qui a tre anni sono molto contento di questo anche perché creerà sicuramente del movimento per quanto riguarda il lavoro da dipendente e se siamo fortunati ma tanto sappiamo che poi tanto il raggiro si troverà però dico se siamo fortunati forse 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 anche lo stipendio medio in italia tenderà ad aumentare ma non perché aumenterà lo stipendio di chi prende già quello che deve prendere quindi dico uno che prende mille cinque mille sei per quanto purché insomma si può dire che dice non si campo non mi compro la villa eccetera però intanto hai quella cifra lì c'è quello che ne prende ottocento facendo la sua stessa mansione che poi fortunatamente dopo prenderà quanto te e quindi vuol dire che lo stipendio medio italiano tenderà forzatamente un po ad aumentare le aziende che fanno le furbine tenderanno a non prendere più persone da sfruttare quindi questo creerà da un lato sicuramente un problema perché le aziende non prenderanno più personale dall'altro inizierà eliminare quelle aziende che hanno un'attività che non funziona che però vogliono comunque portare avanti vogliono persone eccetera anche se non se le possono permettere convincerà le aziende con capacità a smetterla di farle furbe sfruttando il fatto che prima lavoravano per l'altro che non gli dava abbastanza e quindi sfruttavano quel fatto lì per dargli 100 euro in più e comunque sottopagare rispetto ad altre persone quindi insomma io mi aspetto che ci sarà del movimento un discreto movimento da sto punto di vista che potrebbe fare delle cose interessanti non penso farà peggio di come adesso perlomeno adesso diciamo che a pensare bene non lo so non si sbaglia mai anche se non è questo il detto comunque questo è quanto dai io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti